Certo, mi pare che sia stata una giornata particolarmente importante per commemorare purtroppo una vittima che viene da questa terra, caduta anche essa nelle foibe nel nord Italia. La partecipazione che c'è stata a questo evento secondo me è un segnale molto importante e sono rimasto particolarmente colpito del coinvolgimento e della preparazione dei ragazzi di questa provincia, ai quali ritengo di fare ancora una volta tanti complimenti con gli auguri per il loro futuro.